Piccole imprese, trasporto studenti e attività culturali. Sono questi i tre settori di intervento nei quali l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha deciso di investire l'economia realizzata nell'ultimo anno. Risparmi che ammontano a più di 800 mila euro ottenuti grazie alla riduzione delle spese complessive dell'attività del Consiglio, ai minori costi per il personale, gruppi politici e organismi interni e a maggiori entrate. Il dettaglio degli interventi è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila. Presenti il Vice Presidente del Consiglio Paolo Gatti, il Consigliere Segretario Giorgio D'Ignazio e il Presidente Giuseppe Di Pangrazio. E' proprio quest'ultimo a entrare nel merito dell'iniziativa. Abbiamo deliberato in ufficio di presidenza tre grandi linee. La prima è rifinanziare la legge 49 del 2017, finanziamento piccole e piccolissime imprese dei comuni del Cratere, quindi del Terramano, dell'Aquilano e del Pescarese. La seconda linea è quella di rifinanziare di nuovo la legge 55 per tutto quel microcosmo di associazioni culturali che rendono l'Abruzzo attraente ma soprattutto fanno dell'Abruzzo una regione altamente culturale sotto l'aspetto di vista degli spettacoli che organizzano e delle rappresentazioni di caratura nazionale e internazionale. Quindi anche lì abbiamo rifinanziato per dare opportunità a tutte le domande pervenute, che sono circa 150, di poter accedere. Così come ci siamo resi conto da un'analisi nel dettaglio del territorio regionale che c'era una serie di comuni che hanno una scontistica, gli alunni che vanno a scuola, i piccoli comuni delle aree disagiate che fanno parte del decreto Barca ma anche i comuni che rientrano nel Cratere e fuori da questi due parametri erano rimasti circa 22 comuni. Quindi abbiamo anche lì finanziato 100 mila euro per tre anni, 100 mila euro l'anno per dare opportunità agli studenti di avere un minimo di agevolazione sugli abbonamenti che utilizzano attraverso il nostro trasporto pubblico locale la tua. Quindi grande di nuovo opportunità ma non solo, ma un ragionamento che va verso il sociale, cioè di dare un aiuto ai territori che ne hanno bisogno, ai cittadini che sono più deboli. Questo oramai mi pare che sia il motivo che ha stabilito l'Ufficio di Presenza già da due anni e si continua questo percorso lungo questa linea.